I miei genitori I miei genitori Abbiamo detto I miei genitori, mia zia, le mie zie. Cosa notiamo? Abbiamo l'articolo determinativo, in alcuni casi, più aggettivo possessivo, mia, mie, più nome di parentela. Gli aggettivi possessivi Femminile, singolare mia, tua, sua, nostra, vostra, loro Plurale Mie, tue, sue, nostre, vostre, loro Maschile, singolare Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro Plurale Miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro Quando il nome di parentela è al singolare non usiamo l'articolo determinativo Mia madre Tuo padre Sua sorella Usiamo l'articolo davanti ai nomi di parentela al plurale Le sue sorelle I vostri nonni I tuoi suoceri L'articolo resta con le forme alterate, cioè diminutivi Il suo fratellino La mia mamma Il tuo papà Quando dopo il nome abbiamo un aggettivo Il mio nonno paterno La mia zia di Napoli Davanti a loro Il loro cugino La loro madre Avete capito? Benissimo! Ma quando non parliamo dei nomi di parentela cosa succede? Come tutti gli aggettivi, anche quelli possessivi concordano nel genere maschile e femminile e nel numero plurale e singolare del nome a cui si riferiscono Per esempio Maschile singolare Il mio libro Maschile plurale I miei libri Femminile singolare La mia casa Femminile plurale Le mie case In una situazione formale useremo la terza persona singolare Signora Bianchi La sua borsa è bellissima!